Droni per monitorare disastri naturali. L'UNICEF ne ha donati tre al Madagascar con l'obiettivo di fargli sorvolare molte aree del paese, quelle più a rischio idrogeologico, dove sono possibili frane e alluvioni, per poter intervenire prima che si verifichino catastrofi che potrebbero causare la morte di molte persone. Un controllo aereo che diventa sempre più fondamentale in tempi in cui i cambiamenti climatici contribuiscono a generare fenomeni sempre più intensi e devastanti, ma che, se fatto con un elicottero, costerebbe oltre mille euro l'ora. Tecnologia quindi per prevenire, grazie anche al supporto di UNICEF. Thierry Venti, segretario esecutivo dell'Ufficio Nazionale per la Gestione dei Rischi e dei Disastri. Può essere utile per monitorare cicloni, inondazioni, rotture di dighe o crolli di strade, attacchi di locuste. Può servire a dirci prima come intervenire se dobbiamo mandare degli uomini nella zona a rischio prima che accada qualcosa di gravissimo. Il vantaggio è che sono rapidi, costano poco e restituiscono ottime immagini. Abbiamo delle attrezzature semplici che ci danno risposte rapide ed efficaci. Un progetto partito da poco ma che si sta rivelando importante. Durante un volo su Magiunga qualche mese fa abbiamo fatto delle foto in 2D, ma potremmo sfruttare il 3D, dice Lucien, pilota di droni, con il 3D sarà ancora meglio. Fare una foto in 3D a una casa in un'area allagata permette di avere delle immagini ad altissima precisione.